E bello a tutti ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo su Fortnite con un ospite direi più che speciale. Ciao raga! Avete sentito bene ragazzi? Siamo con Anima, con il mitico Sascha. Oggi ragazzi abbiamo desiderato di portarvi questo video insieme, in compagnia. E che dire, abbiamo fatto il panico, questo è poco ma sicuro. E ovviamente se volete vedere nuovamente un duos con me, Anima, vi invito a lasciare... Quanti mi piace Anima? 15.000 15.000 ragazzi. Mai ricevuto 15.000 di baci su un video, ma ci proveremo. Quindi, perfetto, sarà una challenge. Va bene ragazzi, vi lascio con questo video. Vi ricordo che in descrizione troverete anche il link appunto del canale di Anima. Che anche con lui abbiamo realizzato un bellissimo video. Quindi andatelo a vedere, mi raccomando. E niente boys. Per forza! Per forza! Godetevi questo video boys. Un bacione. Allora. Due team. Ci sono sicuramente. Andiamo alle prime case, come sempre. Io prendo quella rotta. Ok. Che mi ispira. Non so perché. Da vedere, adesso mi hai lasciato conto due persone, sto a vedere. E invece no. Ho trovato una R. C'è il gatto che mi dà fastidio. Grazie gatto. Ti voglio bene anche io. Hanno fatto le scale quelle con la cupola, tipo. Ah, sì sì. Console player. Ah, sono lì, a 35. Sembra di cani da tipo, oddio, cosa sta facendo quella? C'è uno di prima. Tranquillo, è morto. Atterrato. Nice. È sopra. Devi morire. Devi morire. I one. Nice. GG, let's go. Baba, 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 baba. Ok. C'è altra gente che mi sa. Sì, 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 eccoli. 120. Madonna che liscio. Quello lì era una KS. Qui sotto. Sotto 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 sotto. Ok. Ok, non vorrei risalissero. No, no, no. Non sale, non sale. Scende al massimo. Anzi, muore. Sì, sì, sì. Nasce che cresce e muore. Nasce che cresce muore. Però non si è riprodotto. Vabbè, Philz Budman. Voi ragazzi vedrete sicuramente una bella parrita sul canale, ma ne potete vedere un'altra molto bella. Nel canale di... Gli anima. No, 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 no. Nel sul tuo canale che non è potuto uscire. Ah, Philz Budman. Madonna, veramente. Infatti in questa parrita abbiamo detto 20 kill perché ne avevamo 19. Giusto. Almeno. Sì, erano 19 precisa. Invece nel tuo 20. Andiamo, mi vedo da dentro. Meno male. Eccoli qua davanti a noi. Thunder Springs. Come ho fatto? Come ho fatto a non colpirlo. Incredibile. Uno vuole flancare da dietro, quindi io prendo quello dietro. Se ci do un'occhiata almeno. Vuole fare il furbo, guardalo. Guardalo. Ce l'ha con te, dove sei? Ce l'ha con te. Dove è? Sotto, è sopra. È sotto, è sotto. Ok, l'ho ferito. Morto mio. Ok. Vuole arrivare. Ma vuoi morire? Morto. Non moriva. Era dura. Era duro. Marmore. Ok. Corri solella. Non preoccuparti. Questa più gelellita, siamo appena riusciti dal paluchele. Ci potrebbe l'altro signore. Togli i shield per te? Ok. A sinistra secondo me arriva qualcuno, eh? Ma se facessi così? Ma è bene! Apri, sono una nuova da! Allora, ecco lì che l'hai infatti a sinistra, come t'avo detto. Quando you try your best, but you don't succeed. Fermati, fermati, fermati. Atterrato. Uuuuh! Maga mia stascia! Uno, due ero io! Let's go, proprio! Ci sono altri due. Sì, 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 sì. La visti? Provate a rubare le cose. Maiali! Attento, eh. Sembrano incazzati questi qua. Non so perché ho questo presentimento. H.S. Sì, c'è un altro. C'è una bagnina di Baywatch. Lo faccio cadere. Cade. Va di là, specchio. Segurità. Ok, la trappola! Uuuuh! Ho preso! Uuuuh! Uuuuh! Oh mio Dio! Oh mio Dio, Sascha, ti ho visto non morto, peggio. Male, male. Dico, sono il medikit, tanto io lo devo lasciare. Sì. Sta sotto. Prendevo il P90. Pleggo, segnola, plego. Lei prende quello che vuole. Grazie, solella. E dobbiamo andare. Abbiamo un jump, un salterino. Sì, sì, siamo a posto, siamo a posto. L'anguilla, segnola. Noi avele situazione sotto controllo. Grazie, segnola. Sì, sono qua sotto che sono anche fuori safe. Di poco. H.S. Oh, c'è un altro, è fuori safe? Sì. Sì, sì, mi ha sparato e non mi ha preso. Non lo vedo. Però c'è. Ok. Io sono qua. A meno che non ha voluto fare uno lì in su. Io sono qua. E se non è lì? Ah no, c'è, no. Qui sono fiorellini. Vabbè, se è lì, se è lì o è l'amore. Io ho sentito sparare, quindi. O si sta curando con i medikit e magari è l'amore. Vabbè, io ho sentito i fantasmi. Cioè, per la seconda volta. Adesso lo sparo, l'ho sentito. Cioè, è difficile dire. Vabbè, prima era un passo bugato. Eccolo, è a 3.30. Ma no, ok, ma è uscito. Ah, è uscito, ok. Ok, è un colpo, è un one shot proprio. 10 di vita. Sì, avevi ragione, 10 di vita. Ti ho detto, io li lascio tutti 10 di vita. Sono un buon samaritano. Tipo, gli dico, ti ho fatto male, ma non voglio ucciderti. Ti ho un'altra possibilità di rimanere in vito. Esatto. Ok, quattro persone si sono. Tu hai i cellini? Sì. Tieni. Non me li vuoi piacere fuori. A me lo l'ho. Ci sono anche dei rift disponibili, perfetto. Non sono un amante di questo posto, ammetto. Però è fresco. Sì, quello è vero. Hanno riftato di nuovo? Ma di po', basta! Ah, ma l'hanno preso qui i rift, però. Ecco, ci hanno visti, eh? Ah, sta arrivando, eh? Sono a sinistra, a destra, dove? Ah, mi vedo. Mi fai da me. E hanno un'arma anche molto simpatica. Hai atterrato, atterrato. Uh, nice! È sopra giù. Eh, mia... Dov'è che mi ha colpito l'altro? Non ho mica visto. Mi do un medikit, eh? Morto? Ok. Brava! GG per il noca col cecchino. Ho detto oggi... Col cecchino è proprio... Oggi sono scatenato. Madonna! Qui. Ok, forse so dove sono. Sono B-Shorts, nord-ovest. Ci sta una costruzione di legno. È una torrone della madonna. Olè! Aspetta, dove? La costruzione? Ah! Vedi? Sono B? Sì, sì. Ah, sì! Sono qua! L'hai visti? Sì, sì! Ah, eccoli! Attenza perché t'ha visto, eh! Dai, dai! Faccio cadere? Ok, è tuo, è tuo, è tuo! 1v1! Occhio di sopra, eh! È un altro... Vittato? No, ma do! Io faccio... Anche se è una peccola, faccio il suo tipo, eh! Io ho uno di vita! Ok, è qui, eh! È qua sotto di me, proprio! Qua, qua sta salendo, sta risalendo, sta risalendo! 30, nord-est! Non ho vita! Dai, ho fatto... È tutto bianco, sto qua! Porto, let's go! Dove sei, Sasha? Dove sei? 16 kill! Dai, va benissimo! Va benissimo, va benissimo! Bella, comunque! Sì, sì, ci sta, ci sta! Madonna, sono un botto! Ok, va bene! E questa sarà una challenge, allora, va bene! E dai, che? Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto! Io mi sono divertito un botto con Anima, quindi Anima, grazie mille per questo bellissimo game! Ma figurati, è sempre un piacere con te! E niente, ragazzoli, come avevo detto anche nell'intro, mi raccomando, lasciate 15.000 mi piace se volete vedere un altro duos con me con Anima, e io, ragazzoli, vi auguro una buona giornata, grazie mille per aver visto questo video, un bacione, e alla prossima! Ciao, ciao! Peace!